Siamo con Massimiliano dentro il nostro 141 Tour in un luogo speciale perché siamo a 30 metri d'altezza in mezzo alle campane di Morazzone che è quasi l'unico luogo dove vengono suonate a mano. Come mai hai scelto questa attività? Sono quasi 7 anni che ho iniziato come servizio di Sacrestano in parrocchia e la passione per le campane di Morazzone l'ho sempre avuta sin da bambino e poi poterle iniziare a suonare parato grazie ai campanari è stata un'esperienza bellissima. Ancora adesso quando si fanno i concerti 5 persone insieme è sempre un bel momento sociale in cui si ride e si scherza però anche con l'attenzione a quella che è l'importanza liturgica del gesto. E altre realtà che hanno campane così dove sono? Allora per esempio c'è Avarese, Giubiano, che ha ancora le campane a mano Schiano che hanno il doppio sistema elettrico e manuale e poi qua nella zona qualche chiesettina piccola.